buongiorno ragazzi oggi vi porto il mio secondo collezione ultra premio di charizard il primo non è andato tanto bene speriamo che questo sia un pochino più fortunato dai apriamo il tappetino bellissimo che le altre tre carte l'ho già messo già mandata gradare 1 2 3 e il codice la medaglia in metallo nell'ultimo ci sono le foderine i dati e sempre in metallo e 2 ok sistemiamo il tappetino vediamo se questa volta mi porta bene apriamo le tre carte come auguri apriamo il pacchetto colpo fusione secondo colpo fusione ecco la prima v terzo sempre colpo fusione l'ho già messo l'ho già messo lo sa non lo sa l'ho già messo azzinno estero, un allenatore estero, bella fiamme oscure fragore ribelle wheezing holo astri luce raiku v origine perduta di nuovo origine guarde voi lucente lucentezza siderata lucentezza siderale un'altra lucentezza siderale hot hot e we're dear holo astri lucenti e come ultimo pacchetto astri lucenti ok allora facciamo un riepilogo un attimo che le abbiamo tutte le carte che ho ci sono di sotto e facciamo un riepilogo il riepilogo ci sono le tre carte hot hot guarde voi lucente rai qv ester e bowltund ok se questo video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale grazie e alla prossima grazie